Grazie Valentina, grazie alle colleghe e ai colleghi presenti, grazie all'organizzazione del congresso giuridico distrettuale che oggi mi dà il piacere ma soprattutto l'onore di presentarmi qui davanti a voi e di intrattenervi su un argomento che è altrettanto interessante così come quelli trattati da Nicola e da Andrea. Parleremo di notifiche tramite PEC che sono una delle positive svolte del processo civile telematico anche se anche queste al pari del processo civile telematico non sono esenti da insidie. L'insidia principale che poi accomuna anche l'aspetto del processo civile telematico è quella normativa. Purtroppo nel tempo si sono accavallate tutta una serie di norme, io ne ho contate o meglio ne ho indicate in questa evoluzione normativa che vedete nella slide, qua ce ne sono cinque, partiamo naturalmente dalla legge 183 del 2011, non le elenco proprio per procedere in maniera più cedere ma sono arrivate praticamente a circa 8 norme, 8 leggi che vanno a modificare l'una l'altra e a rendere sicuramente più complicato anche quello che è il nostro lavoro. Il DPCM che vedete nella slide, quello del 13 novembre 2014, è un DPCM che in realtà ormai dal luglio del 2015 proprio a seguito del decreto legge 83 del 2015 non dobbiamo più applicare. Detto così, indicato così questo DPCM non ci dice nulla ma se io pronuncio due parole esce in pronta un riferimento temporale, subito credo che la maggior parte dei colleghi possano ricollegare a che cosa si riferisca il DPCM. Erano le modalità con cui abbiamo attestato la conformità di una copia informatica sul documento separato appunto a partire dal febbraio del 2015 e fino ad arrivare a luglio del 2015. Poi come già ben evidenziato da Nicola Gargano abbiamo avuto il DL83 che con l'articolo 1611 e terzo comma e in più con il decreto 28 dicembre 2015 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 gennaio del 2016 è entrato in vigore il 9 gennaio, ha modificato queste modalità abbandonando quindi di fatto il LESH e il riferimento temporale come modalità di attestazione della conformità. Questo appunto era l'articolo 1611 a cui facevo riferimento e poi arriviamo all'articolo 19 terzo. Ma quando parliamo di notifiche tramite PEC come del resto anche quando parliamo di processo civile telematico non possiamo tralasciare l'aspetto deontologico. Nelle notifiche tramite PEC sia il vecchio codice deontologico sia quello in vigore dal 15 dicembre 2014 all'articolo 58 comma 1 e 2 prevedono che il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce il lecito disciplinare e il comportamento di cui al comma precedente comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da 2 a 6 mesi. Quindi è una norma deontologica che non va assolutamente messa da parte e va considerata al pari di le altre norme che regolano le notifiche tramite PEC. Ma sempre il codice deontologico ci richiama anche a dei principi generali che a volte magari dimentichiamo. Faccio una premessa e faccio una piccola parentesi. Quando parliamo di processo telematico parliamo delle nuove ansie del professionista, delle nuove ansie dell'avvocato, l'ansia della terza PEC. Chi di noi quando fa un deposito si accontenta della ricezione delle prime due ricevute, si va subito in fibrillazione se passano dei minuti e non arriva la terza PEC. Magari si chiama il collega più esperto chiedendo ma sai se ci sono dei blocchi sul sistema oppure come mai non arriva. Quindi là viviamo già dei momenti di panico. Poi l'ansia della quarta PEC. Ma l'ansia della quarta PEC è qualcosa che non dipende dal sistema ma dipende dall'essere umano che si trova nelle cancellerie e che, così come da circolare del 23 ottobre 2015, del Ministero della Giustizia, dovrebbe accettare l'atto al massimo entro il giorno successivo a quello dell'avvenuto deposito. Ma anche questo sappiamo che rimane in teoria e in pratica viene posto in essere da poche cancellerie e da pochi uffici giudiziari. E poi abbiamo l'ansia delle notifiche tramite PEC. Al punto che preferiamo non farle. Io non so voi ma a me è capitato sicuramente la stessa cosa vale per Nicola, Andrea e Valentina. Quando magari diciamo a un collega guarda, notifica tramite PEC. No, per l'amore di Dio. Fammi stare tranquillo almeno lì. È una facoltà, non ho l'obbligo di farlo. Ancora non riesco bene a capire come barcamenarmi nel PCT con le notifiche. Preferisco pagare, preferisco che non siano tempestive, preferisco andare dall'ufficio UNEP, ma lascia perdere il discorso telematico. Però attenzione perché il codice deontologico deve farci riflettere anche su questo. Dovere di diligenza. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza assicurando la qualità della prestazione professionale. Non possiamo non conoscere le norme che disciplinano le notifiche tramite PEC perché se fino a un certo punto possiamo dire che è vero che sono facoltative ma tra poco vedremo in quale caso è obbligo per il professionista dover notificare tramite PEC, quindi non è più una scelta, è anche vero che noi la notifica PEC dobbiamo sapere come si fa soprattutto per sapere se è stata fatta bene magari a un nostro cliente che l'ha subita, che l'ha ricevuta. Ci sono delle modalità che vanno rispettate, ci sono degli elementi che vanno indicati, sono quelli previsti dalla legge 53-94 e sappiamo che c'è un articolo 11 della legge 53-94 che prevede la nullità della notifica laddove avvenga indiformità anche di uno di quei principi che sono contenuti nella legge 53-94 stessa. Il dovere di competenza, dobbiamo assicurare la qualità della prestazione professionale, il dovere di aggiornamento, lo dicevo prima, dal 2011 al 2016 sono passati cinque anni, si sono accavallate otto normative, alcune proprie della legge 53-94, altre magari relative alle modalità di attestazione di conformità, ma sono tutte collegate e anche qui ci piaccia o non ci piaccia dobbiamo tenere alta la nostra attenzione perché, ripeto, responsabilità professionali ma responsabilità anche deontologiche e poi chiaramente le responsabilità disciplinari e quelle che l'accettazione di un incarico professionale deve presumere e presupporre sempre la competenza a svolgerlo. Dicevo, notifica tramite PEC facoltativa sì ma fino a un certo punto, DL 90 del 2014 ha introdotto l'articolo 52, ossia il cosiddetto domicilio digitale, domicilio digitale che fa proprio un principio che aveva già espresso la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza del 20 giugno 2012 numero 10.143. Le slide poi, così come ha detto già Andrea, saranno a vostra disposizione. Io non vado ad approfondire il discorso della Cassazione, vado direttamente alla norma dettata dall'articolo 52 del DL 9014, la quale aggiunge l'articolo 16 sexies al DL 179 2012, per cui adesso, salvo quanto previsto dall'articolo 366, quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite a distanza di parte presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria possa procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l'indirizzo PEC risultante da INIPEC o da Reginde, cioè dal registro generale degli indirizzi elettronici. Quindi la norma è chiara, non posso procedere alla notifica tradizionale in cancelleria, in quelle situazioni che la norma indica e mi chiede di procedere in questo caso, se non prima ho tentato la notifica tramite la posta elettronica certificata. Quindi notifica PEC che diventa non più una notifica facoltativa in questo caso, ma obbligatoria e naturalmente per poterla fare, nelle modalità così come la legge 54 e 53 del 94 prevede, devo esserne assolutamente a conoscenza. Le novità introdotte molto velocemente, le passiamo in rassegna, sono per esempio quella che è stato eliminato il prerequisito dell'autorizzazione dei consigli dell'ordine, per cui per notificare tramite PEC che non c'è più bisogno di essere preventivamente autorizzati dall'ordine, e invece è necessario, ricordiamolo sempre, avere l'autorizzazione se vogliamo notificare in proprio, nella maniera tradizionale cartacea, quindi attraverso l'ufficio postale. Elimina l'obbligo di pagamento dei diritti per le notifiche quindi eseguite tramite posta elettronica certificata, quindi la notifica tramite PEC è una notifica assolutamente gratuita. E poi è stato ribadito, con un principio proprio normativo, che alle notifiche PEC si applica l'articolo 147 del codice di procedura civile. Cosa significa questo? Significa che se la notifica PEC viene effettuata dopo le ore 21, la notifica si intende perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Infatti l'articolo 147 del codice di procedura civile nella sua ultima formulazione prevede che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Io onestamente non sono stato mai molto favorevole all'applicazione di questo articolo 147, perché vado a memoria ma ritengo che la Cassazione abbia più volte detto che il motivo di questa norma deve trovarsi nel non disturbo della quiete del debitore. Ora, messo e non concesso che si riesca a trovare un ufficiale giudiziario che dopo le ore 21 vada a notificare un atto, e questo magari ci può stare anche in ipotesi molto remote, ma mi chiedo che disturbo possa dare alla quiete del debitore il fatto di ricevere un messaggio di posta elettronica certificata. Qualcuno dice sì, ma il debitore teoricamente avrebbe potuto inserire come alert sul telefono per cui arriva la notifica, ma è sempre una sua scelta, per cui se ha scelto lui di essere notificato in maniera immediata, non vedo perché poi debba ricadere sul disturbo della sua quiete la notifica stessa. Ripeto, è però norma, mi raccomando, non notifichiamo tramite PEC dopo le ore 21, soprattutto se la notifica riguarda un atto in scadenza, perché la notifica si considererebbe effettuata il giorno successivo. Quindi distinguiamo il deposito telematico, può essere fatto entro le 23.59 o meglio, la ricevuta di consegna di un deposito telematico, la seconda ricevuta, deve arrivare entro le ore 23.59 del giorno di scadenza affinché il deposito venga considerato tempestivo, se invece parliamo di notifica PEC, la seconda ricevuta, quella di avvenuta consegna, deve arrivare prima delle ore 21, altrimenti si corre il rischio che il nostro atto sia stato notificato in maniera non tempestiva. Le notifiche PEC sono consentite negli atti civili, negli atti amministrativi, anche se vedete che c'è quel segnale di pericolo, è negli atti stragiudiziali. Sarò un po' più preciso e mi dilungherò un po' di più sul tema delle notifiche negli atti amministrativi nella sessione del pomeriggio. Adesso solamente così per ricordare che c'è stato un grande contrasto proprio tra i TAR fino ad arrivare al mese di maggio-giugno del 2015, per cui alcunità ritenevano che le notifiche PEC potessero effettuarsi anche davanti alla giustizia amministrativa, altri no. La cosa sconcertante e sconfortante è stata una decisione del Consiglio di Stato, non quella che vedete nella slide, perché in quella che vedete nella slide il Consiglio di Stato aveva dato il via libera e sembrava in maniera definitiva alle notifiche tramite posta elettronica certificata, ma dopo un'altra sentenza del TAR Campania e dopo un'altra sentenza positiva del Consiglio di Stato del settembre 2015 e del 22 ottobre 2015, arriviamo a quella del 20 gennaio 2016, dove addirittura la notifica tramite PEC viene considerata inesistente in considerazione del fatto che mancavano, quando questa sentenza è stata pubblicata, mancava la pubblicazione delle regole tecniche e delle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico. Sappiamo poi che sono state pubblicate il 21 marzo, però attenzione, lo anticipo adesso per chi magari non ci sarà nella sessione pomeridiana, l'invito è di notificare tramite PEC davanti alla giustizia amministrativa soltanto a far data dal 1 luglio, perché se è vero come è vero che le regole tecniche e le specifiche tecniche del PAT sono entrate in vigore il 5 di aprile, è anche vero che l'articolo 21 del regolamento prevede che la maggior parte delle norme in esso contenute e in particolare quelle sulle notifiche tramite PEC, che questa volta sono disciplinate proprio dalle regole specifiche tecniche del processo amministrativo telematico, entrino in vigore dal 1 luglio del 2016. Quindi la raccomandazione è evitiamo, in questo frangente ormai mancano pochi giorni, al 1 luglio evitiamo di notificare tramite PEC, aspettiamo il 1 luglio. Non sono ammesse le notifiche relative ad atti penali, non ci sono assolutamente limitazioni territoriali, uno dei requisiti che viene richiesti ed è quello sul quale ancora molti di noi hanno tanti dubbi, è quello relativo all'indirizzo di posta elettronica certificata, cioè da dove possa essere preso e debba essere preso l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. La norma in questo caso è chiaro, l'articolo 3 bis numero 1,1 della legge 5394 prevede che l'indirizzo PEC del mittente e del destinatario debba essere estratto da pubblici elenchi. I pubblici elenchi da un punto di vista normativo sono quelli che vedete nella slide, quindi l'articolo 3 bis, l'articolo 45 bis del DL90, l'articolo 16 ter della legge 221 del 2012, in pratica sono quelli che vedete qui nella slide, quindi il domicilio digitale del cittadino che però ancora non è stato istituito, l'elenco delle pubbliche amministrazioni che ha sostituito l'indice pa.gov.it, l'indice pa.gov.it era quell'elenco e parlo al passato perché non possiamo più utilizzarlo ormai dal luglio del 2014 per le notifiche tramite PEC, l'indice pa.gov.it era quello che conteneva circa il 99% degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni. È stato sostituito dall'elenco delle pubbliche amministrazioni che potete trovare all'interno del portale dei servizi telematici attraverso un accesso con identificazione forte, cioè attraverso il dispositivo di firma digitale, però, e lo saprete anche voi, la cosa sconvolgente è che nonostante il DL90 del 2014 in fase di conversione prevedesse che questo elenco dovesse essere completato entro il 30 novembre del 2014. Siamo arrivati alla fine di aprile del 2016 e vedete che il totale delle pubbliche amministrazioni che hanno inserito, che hanno comunicato l'indirizzo PEC a questa data è pari al 55%. Inutile dirvi che rimane ancora latitante da fornire l'indirizzo PEC in questo elenco, proprio il Ministero della Giustizia. Quindi, elenco delle pubbliche amministrazioni, ma sono poche le PA che sono inserite in questo elenco, poi abbiamo il registro imprese e il registro in IPEC dove possiamo trovare sia gli indirizzi presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, sia quelli presenti nel registro imprese e delle camere di commercio. Lo dicevo prima, l'IPA che è rappresentato dal sito che vedete nella slide non è assolutamente più idoneo per poter estrarre l'indirizzo PEC per le notifiche. I colleghi mi chiedono, ma allora lo posso comunque utilizzare? Se lo indirizzo che cosa succede? Se io l'indirizzo PEC lo trovo solo sull'IPA e non lo trovo sugli altri pubblici elenchi, che succede? Succede che la notifica è nulla, ai sensi dell'articolo 11 della legge 53-94. Cosa significa notifica nulla? Significa che se la controparte si costituisse comunque in giudizio, la notifica sarebbe sanata. Il raggiungimento dello scopo l'articolo 156, Nicola Gargano prima ricordava la sentenza sezionuita della Corte di Cassazione che ribadisce che se la nullità c'è ma l'atto raggiunge lo scopo, la nullità è automaticamente sanata e nello stesso tempo richiede poi anche alla Cassazione che venga indicato quale sia il motivo per cui la controparte sia stata penalizzata da quella nullità presente nella notifica. Requisiti allegati per notificare tramite PEC, essere in possesso naturalmente dalla casella di posta elettronica certificata e del dispositivo di firma digitale, il mittente destinatario deve risultare da pubblici elenchi e attenzione al campo oggetto. L'oggetto che dobbiamo per forza di cosa scrivere nella PEC che predisponiamo per la notifica deve essere obbligatoriamente questa notificazione ai sensi della legge numero 53 del 1994. È un formalismo apparentemente inutile, il motivo qual è? Quello di far capire subito al destinatario che cosa in effetti quella PEC contiene. Quella è la motivazione principale. Anche qui il legislatore probabilmente ha una scarsa considerazione dell'avvocato e soprattutto della sua professionalità e della sua onestà perché molto probabilmente ha pensato che non indicando questa frase specifica da inserire nell'oggetto l'avvocato magari per fuorviare o per depistare il destinatario potesse inserire, che ne so, trattasi di pubblicità oppure vendita di una cosa piuttosto che di un'altra in maniera tale che questa PEC veniva subito accantonata. Siccome sappiamo che ha efficacia la notifica nel momento in cui viene consegnata sulla PEC del destinatario e quindi quando arriva la ricevuta di consegne al mittente, anche se chiaramente non c'è la lettura, nonostante che un GOT di Lecce, prima Nicola Gargano ha citato giurisprudenza pugliese, alla quale sicuramente mi inchino anch'io, però citiamone anche una disastrosa che è quella del GOT, se non sbaglio, di Lecce, il quale ha ritenuto che una notifica tramite PEC dovesse essere ripetuta nella modalità cartacea perché non c'era la prova che la contropaca, cioè il destinatario, l'abbia in effetti letta, l'abbia aperta e l'abbia conosciuta. Io non commento e non dico nulla, mi spiace soltanto che sia un GOT e che sia quindi un collega perché ho sempre ritenuto e continuo a sostenere che noi, rispetto ai magistrati, siamo sicuramente anni luce avanti nel telematico. L'ordinanza che prima ha letto Nicola sulle orecchiette al sugo piuttosto che le cime di rape, penso che sia la dimostrazione più semplice da dare e da fornire. I allegati al messaggio PEC, relata di notifica, l'atto da notificare alla procura all'eliti, eventuale, perché eventuale, non perché si possa o non si possa inviare, dipende soltanto dal tipo di notifica che facciamo. Se la notifica riguarda un atto in corso di causa, la procura già è stata tra virgolette spesa, non è assolutamente necessario quindi allegarla di nuovo. Sulla relata di notifica e sul suo contenuto, anche qui non possiamo far altro che andare a vedere quello che la legge 53-94 ci dice. Sono determinati punti che dobbiamo assolutamente rispettare ed elencare e devono essere presenti. Anche qui, in mancanza di uno di questi elementi, scatta la nullità prevista dall'articolo 11 e di conseguenza tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento a proposito di una notifica nulla. Voglio soffermarmi solo per un istante sul punto E, laddove si prevede la notifica, per esempio, di copie informatiche, dove è fatto obbligo di inserire l'attestazione di conformità di coi al comma 2 dell'articolo 3b se legge 53-94. Cosa significa? Prima parlavamo di copia informatica. Copia informatica è la scansione di un cartaceo. Immaginiamo per esempio di dover notificare un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non possiamo attestarne noi la conformità, dobbiamo quindi farci rilasciare una copia conforme dalla cancelleria e otteniamo quindi un documento cartaceo. Questo documento cartaceo lo portiamo in studio, lo scansioniamo, otteniamo la copia informatica e possiamo notificarlo tramite PEC. Per quella norma che ha citato prima Nicola, il 16 undeces comma terzo del DL83 2015, noi dobbiamo attestarne la conformità. Ma come dobbiamo attestarne la conformità? Attenzione, terzo comma, 16 undeces, ultimo capoverso. Se la copia informatica riguarda una notifica, quindi una notifica tramite PEC, l'attestazione deve essere inserita nella relata di notificazione. Quindi, nelle notifiche tramite PEC, quando io allego una copia informatica, qualsiasi tipo di copia informatica, fatta eccezione per la procura all'eliti, e adesso vi dirò perché fatta eccezione per la procura all'eliti, nelle notifiche PEC civili, nell'amministrativo, poi vedremo nel pomeriggio purtroppo che le cose sono diverse, ma nelle notifiche PEC civili la copia informatica deve essere attestata come conformità nella relazione di notifica. Quindi io prima faccio la mia relata di notifica, alla fine attesto la conformità alla copia informatica. Anche qui non complichiamoci la vita, Andrea è stato un antesignano, Nicola lo ha ricordato prima, siamo pubblici ufficiali, non facciamo attestazioni di conformità che diventino più corpose dell'atto che stiamo notificando. Ci complichiamo inutilmente la vita, qualcuno le fa indicando tutte le norme, le norme non vanno indicate per un semplice motivo, che il cancelliere quando oggi ci rilascia una copia dalla cancelleria indica quali sono le norme in base alle quali ha il potere di fare quel determinato atto? No. E perché dobbiamo farlo noi? E allora onde evitare di vedere cose che non avremmo mai osato vedere, come diceva in quel film Blade Runner, limitiamoci all'essenziale, è conforme all'originale, basta e avanza, siamo noi che ne attestiamo la conformità e siamo noi che sappiamo che cosa rischiamo in caso di un'attestazione che non sia veritiera. Quindi tornando agli elementi, l'atto da notificare, potremmo fare due esempi, quello della citazione, della notifica, della sentenza, io però credo che siamo arrivati proprio al limite, sono le 13.15, mi fermo qui, tanto poi per chi seguirà nel pomeriggio potremo riprendere gli stessi argomenti con le differenze per il fatto. Grazie, grazie Maurizio Reale. Io non posso che dirvi, fate queste notifiche a mezzo PEC perché stanno pulendo le anagrafiche delle PEC delle imprese, c'è lo SPID, quindi entrerà in vigore anche il registro dell'anagrafe della popolazione residente che conterrà le PEC dei cittadini, è previsto a dicembre 2018, perché con il processo amministrativo telematico anche le pubbliche amministrazioni saranno obbligate ad indicare una PEC perché altrimenti non colloquiano né coltarne con il Consiglio di Stato. Grazie a tutti e ci vediamo oggi pomeriggio col Pat.